Si intitola Di spiagge e di talenti il libro che ripercorre e celebra questi vent'anni di comunità, uno spazio sociale che lei Giorgio conosce molto bene essendo stato il presidente di questa realtà che nacque nel 2003. Sì, quest'anno quella che stiamo inaugurando proprio questi giorni, l'apertura ufficiale sarà il 28 di maggio, è la ventesima stagione della spiaggia dei talenti. In sostanza è una spiaggia, un luogo di accoglienza delle associazioni di volontariato che si occupano sostanzialmente di sociale. Tutti quelli che a Fano nel nostro territorio si occupano di sociale, dalle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, agli oratori, ai gruppi anziani, alle parrocchie, ai gruppi giovani, che in qualche modo si occupano di questi aspetti, sono passati in un modo o nell'altro nella spiaggia dei talenti. Per cui la spiaggia, attraverso queste amicizie, attraverso questo contesto così di svago, di divertimento, ma anche di approfondimento, ha poi acquisito negli anni questa denominazione, questa connotazione di spiaggia sociale. Dunque tutte informazioni che vengono racchiuse in questo libro che verrà presentato domenica. Luciano, lei è l'attuale presidente. Quali sono oggi le attività culturali che vengono svolte? Abbiamo sempre pensato che il sociale fa rima con culturale, per cui ogni anno abbiamo organizzato la presentazione di due o tre libri che ci sembrava interessante, sempre sui temi sociali o comunque di interesse generale. In particolare abbiamo avuto tantissimi incontri, ne voglio ricordare solo uno perché sarebbero davvero tantissimi, quello con Donoreste Benzi e Italo Nannini che raccolse un'infinità di persone lungo la nostra spiaggia e fu davvero un'occasione unica e irripetibile. Domenica dove e a che ora sarà l'appuntamento? Alle 17.30 al centro pastorale di Fano, quindi in via Roma, sarà presente il sindaco, il vescovo e il presidente rondina della BCC che ci ha dato una bella mano nel realizzare questo libro fotografico veramente molto bello. Grazie a tutti.